Oltre 40.000 metri quadrati, 50 stanze in stile veneziano, i giardini, gli archi, anche l'heliporto. L'appellativo di Castello delle Cerimonie, il Grandotella Sorrisas l'è certamente guadagnato sul campo. Ma dietro questo complesso enorme di Sant'Antonio Abate ai piedi dei Monti Lattari, finito sotto confisca per abusivismo, c'è una lunga storia che attraversa trasversalmente quella di Napoli in vari aspetti. Le luci del Festival della Canzone Napoletana, trasmesso anche dalla RAI e degli ospiti illustri come Diego Armando Maradona e degli eventi dedicati al calcio Napoli, le ombre, dei matrimoni di boss della Camorra e delle inchieste sugli affari del fondatore, Don Antonio Polese, e dei suoi rapporti, presunti o confermati, con personaggi di spicco, della malavita. Il Castello di Ottaviano, quartier generale di Raffaele Cutolo. Polese, che all'anagrafe si chiama Tobia, ma che tutti chiamano Antonio, alla fine degli anni 70 del secolo scorso, compare tra i titolari della società immobiliare Il Castello, che nel 1979 acquista il Castello Mediceo di Ottaviano. Tra i suoi soci figura Adolfo Greco, attualmente sotto processo per l'area ex cirio di Castellamare di Stabbia, per gli inquirenti imprenditore capace di trattare a qualsiasi tavolo, da quelli della Camorra a quelli della politica. Ufficialmente, l'obiettivo è di ristrutturare l'imponente complesso per farne una struttura ricettiva. Il Castello, però, finisce nelle mani del super boss Raffaele Cutolo, all'epoca, all'apice della sua carriera criminale, che ne fa il proprio quartier generale. In realtà non ci vivrà mai. Per la vicenda, Greco e Polese vengono condannati per favoreggiamento. I due imprenditori, però, hanno sempre sostenuto di essere stati delle vittime del professore, e non suoi prestanome. Polese ha sempre negato di aver avuto rapporti con Raffaele Cutolo e sostenuto di non averci mai parlato di persona. Anni fa venne sospettato di aver nascosto la sorella, Rosetta Cutolo, all'epoca latitante, proprio alla sorpresa, ma questa ipotesi non ha mai trovato riscontro. Don Antonio Polese, deceduto nel 2016, viene coinvolto successivamente in un altro processo, quello sull'area ex Cirio, ancora in corso. Il sito venne acquistato dalla Polgre, società che lo vedeva ancora una volta in affari, con Adolfo Greco, con l'intenzione di costruire un centro residenziale da oltre 300 alloggi, spazi commerciali, aree verdi. Secondo la procura di Torre Annunziata, le concessioni sarebbero state sbloccate a son di mazzette. Il festival Napoli prima e dopo Il grande hotel La Sorrisa, che Polese definisce frutto di 200 anni di lavoro della sua famiglia, diventa famoso a livello nazionale nel 2014, con la trasmissione Il Boss delle Cerimonie. Già tre anni prima, però, la procura di Torre Annunziata aveva avuto da ridire su quel sito. Secondo i magistrati, a partire dal 1979, è stata compiuta un'attività edilizia in violazione delle più elementari norme urbanistiche. E se il programma di Real Time ha portato il castello nelle case di milioni di italiani, c'è da dire che a livello locale e con un proprio spazio, anche in quello nazionale, era già molto noto. E nel 1999 era stato anche tra le principali location del film Cientan, con Mario Merola e Gigi D'Alessio. Per trent'anni, poi dal 1983 al 2012, il grande hotel La Sorrisa ospita il festival Napoli prima e dopo la canzone napoletana in concerto. Il matrimonio tra i figli dei boss Mazzarella e Giuliano. Nel 1996, il castello viene scelto per festeggiare un matrimonio che poi finirà sotto la lente di ingrandimento dell'antimafia. Michele, 18 anni, è il figlio di Vincenzo Mazzarella, o Paz, boss dell'omonimo clan e nipote di Michele Zazza, tra i principali camorristi di quel tempo. Marianna, 17 anni, è la figlia di Luigi Giuliano, l'ovigino, il re di Forcella. Cerimonia Forcella e subito dopo i festeggiamenti a Sant'Antonio Abate, dove però non vanno diversi parenti stretti dello sposo. Secondo polizia e carabinieri hanno deciso di restare a casa per paura di eventuali agguati. All'epoca, gli investigatori ipotizzano che quell'unione possa sancire un accordo tra le due famiglie malavitose. A celebrare il matrimonio è Don Franco Rapullino, diventato noto qualche anno prima per la predica antica morra, durante la quale, nel corso dei funerali di un bambino ucciso dalla camorra, pronunciò più volte l'esurtazione Fuitven, invitando i napoletani ad abbandonare una città così violenta. Maradona e gli eventi del calcio Napoli La sorpresa è la location anche del ventennale e del venticinquennale successivamente della fondazione dell'associazione italiana Napoli Club. Nel 1992, i rappresentanti di tutti i club d'Italia, i dirigenti della Federcalcio e la Lega, i presidenti dei club di Serie A e una rappresentanza di calciatori, si incontrano nella struttura di Sant'Antonio Abate. Quattro anni dopo, nel 1996, l'hotel ospita le finali regionali della 57esima edizione di Miss Italia. Sempre nel 1996, alla sorrisa, si tiene la premiazione del pallone d'oro 1926-2006, negli 80 anni della fondazione del calcio Napoli. Ed è sempre nello stesso anno che a Sant'Antonio Abate arriva la nazionale argentina per affrontare l'Angola alla Rechi di Salerno, per l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato in preparazione dei mondiali. Nel 2006, quando Diego Armando Maradona torna a Napoli per partecipare ad un evento di beneficenza a Giuliano, ad accoglierlo trova la Guardia di Finanza, che gli contesta un debito di 31 milioni di euro per tasse non pagate negli anni Ottanta. La vicenda si chiuderà con un'assoluzione della Cassazione nel 2021. Ma lasciata la caserma, Maradona e il suo entoraggio vanno alla sorrisa, dove Antonio Polese è ben felice di accoglierlo e annuncia che lo ospiterà ogni volta che verrà in Italia. Il sequestro del 2011 la confisca del 2016. Nel 2010 arriva la prima tegola firmata a procura. Vengono abbattuti una mansarda e un torrino abusivi. Alla sorrisa viene contestata la costruzione abusiva di una sopraelevazione di circa 400 metri quadrati, nella quale sono state ricavate 10 camere. Contro la sentenza di primo grado non è stato presentato appello. Il 28 dicembre 2011 scatta il sequestro per lottezzazione abusiva. Il successivo 20 luglio però va in onda la serata di Napoli prima e dopo. Il 26 luglio la vicenda sale alla ribalta nazionale. Il deputato Francesco Barbato, capogruppo IDV in Commissione Finanze, presenta un'interrogazione in cui chiede che la RAI interrompa i rapporti con la sorresa. Agli inizi del novembre 2016 il Tribunale di Torre Annunziata dispone la confisca della struttura, con l'acquisizione da parte del Comune di Sant'Antonio Abate e condanna a un anno di reclusione la moglie e il fratello di Antonio Polese. Nel frattempo il boss delle cerimonie è in ospedale. Muore pochissimi giorni dopo, il primo dicembre 2016, per uno scompenso cardiaco. La gestione della struttura passa in capo alla figlia, Imma Polese, donna Imma, e al marito Matteo Giordano e il format cambia nome, diventando il castello delle cerimonie. La location per eventi e incontri dei boss. Il sequestro e la successiva confisca non fermano però l'attività. E complice il successo per il programma televisivo, alla sorrisa arrivano clienti da tutta Italia, pronti a spendere decine di migliaia di euro per un evento sfarzoso. Tra questi non mancano i volti noti alle forze dell'ordine. È il caso di Pasquale Fucito, il marziano, ritenuto dagli inquirenti tra i principali narcotrafficanti del Parco Verde di Caevano e legato al clan Sautociccarelli. A rivelare la sua presenza è proprio una puntata del format televisivo. Le telecamere immortalano Fucito alla comunione di una nipote. La puntata va in onda il 21 ottobre 2016. Nel 2018 le attività investigative della Guardia di Finanza documentano un altro incontro avvenuto alla sorrisa, di grosso rilievo, per una inchiesta contro il clan di Lauro. Nella struttura di Sant'Antonio Abate avviene il primo incontro tra il boss, Vincenzo Di Lauro, e il gruppo bulgaro, con cui l'erede della cosca di Secondigliano sta in quel periodo imbastendo l'affare della fabbrica di sigarette abusiva ad Acerra, quella che verrà poi sequestrata dalle fiamme gialle. E che porterà in manette anche Tony Colombo e Tina Rispoli, ritenuti finanziatori del clan. Il matrimonio di Tony Colombo e Tina Rispoli. Il 28 marzo 2019 si sposano Tony Colombo e Tina Rispoli. Dopo il flash mob in piazza del plebiscito e il giro in carrozza a Secondigliano, la mega festa alla sorpresa. È un evento mediatico nazionale. Le immagini vengono trasmesse anche da Mediaset. Su quel matrimonio si concentra il terzo episodio dell'inchiesta giornalistica di fanpage.it Camorra Entertainment. Tra gli invitati ci sono numerosi personaggi di spicco della criminalità napoletana. Vincenzo e Raffaele Rispoli, fratelli di Tina, presenza naturalmente scontata, ma anche boss del calibro di Gennaro Carra, oggi collaboratore di giustizia, ma all'epoca reggente del clan Cutolo del rione Traiano. Grazie. 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 Grazie.